Ciao a tutti e buona giornata! Oggi una canzone per chi ha appena iniziato a suonare solo tre note Si La Sol e poi il bello dell'accompagnamento musicale che sentirete che all'inizio sentite voce solista quindi è quello che dovete fare voi con il flauto o magari con una tastiera le note va bene per tutti gli strumenti e un accompagnamento d'orchestra che fa e poi a poco a poco si aggiungono altri strumenti quindi alla fine ti sembrare suonare con un'orchestra. Buon divertimento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!